Salve, ci troviamo qua a Barberino di Mugello alla ricerca di una tarantola chiamata Bela Licosa. È un animale, un ragno crepuscolare, molto schivo ma molto pericoloso, soprattutto le femmine, perchè possiedono un veleno neurotossico. Eccomi, sulla tana della Bela Licosa, ho trovato una bella grossa. Ecco, guardatela. Ehi, i grilli hanno smesso di cantare. Ecco, guardatela.